Il lancio di queste scarpe ha fatto letteralmente discutere chiunque Si è sicuramente giudicato la medaglia d'oro per essere il più discusso di tutto il 2023 E anche in realtà di tutti gli ultimi anni Ma come mai il drop di questa scarpa viene paragonato al peggior drop di sempre Ovvero a quello delle Jordan 1 I in collaborazione con Trophy Room Beh signori prima di iniziare mettetemi un like, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanellina delle notifiche Per supportare il canale e aiutarmi con l'algoritmo di Youtube Nel corso del tempo tutte le release hanno un fattore in comune e il fattore in comune si chiama il backdoor Ma che cos'è il backdoor? Come mai vediamo così tanti reseller che a qualche settimana prima dalla data di release per un determinato paio di scarpe Iniziano a postare delle foto già con le scarpe in mano e soprattutto in grandissime quantità Di conseguenza in questo video andiamo ovviamente a farci un unboxing delle bellissime Dunk Low USB In collaborazione con Born & Race E andiamo a parlare di questo fenomeno che credo che sia una delle piaghe più importanti per quanto riguarda il resell Molti magari danno la colpa di non riuscire a coppare una scarpa per i reseller che utilizzano bot Ma qui ragazzi i reseller che utilizzano bot non c'entrano assolutamente niente Perché le scarpe non riescono nemmeno ad arrivare alla data di release Proprio perché vengono già vendute sotto banco molti giorni prima se non addirittura alcune settimane prima della data del drop Tra le mani ho una delle scarpe più belle di questo 2023 E sto parlando delle Nike Dunk Low SB in collaborazione ovviamente con Born & Race Allora come sapete a me non piace troppo fare gli unboxing, star lì a dirvi tutti i dettagli delle scarpe A me piace più che altro raccontare una storia Ovviamente ve la faccio vedere perché i dettagli sono qualcosa di assolutamente pazzesco Devo dire che i materiali che troviamo sono di altissima qualità Però in realtà li troviamo in quasi tutte le Dunk Low SB Però devo dirvi che qua siamo sicuramente un passo avanti Dopo vi farò delle riprese a testimoniarlo Cos'è successo in realtà dietro a questo lancio? Allora più nello specifico dietro a questa Dunk Low in collaborazione con il brand di Los Angeles Born & Race Abbiamo avuto tantissimi fattori che hanno portato questa scarpa ad uscire a 130€ E ad essere rivenduta attualmente al mercato secondario intorno ai 500€ Magari qualcosa in meno, magari qualcosa in più Ovviamente dipende dove le trovate Siamo a fine giugno del 2023 Tutti eravamo in hype per questa release che sarebbe stata appunto nel mese successivo E di conseguenza nel mese di luglio Se non sbaglio sarebbero dovuto uscire il 21€ Purtroppo il founder di Born & Race fece un incidente in macchina e venne a mancare proprio a fine giugno Potete ben capire che dopo un avvenimento del genere la release fu totalmente cancellata Questa è una scarpa che comunque è stata aggiunta nel back end dell'applicazione sneakers di Nike L'avrebbero dovuta rilasciare anche appunto su Nike Cosa che così non è stato E questa storia vi posso assicurare che ha talmente tante sfaccettature che non si capisce più niente Ovviamente io mi son fatto la mia idea Boh, passano i giorni e comunque il drop sarebbe dovuto essere il 21 luglio Spanto è venuto a mancare il 25 giugno Ma noi avevamo già visto da alcuni reseller che questa scarpa era stata già backdorata Ma che cos'è il backdoor? Il backdoor è semplicemente quando il proprietario di uno store Essendo una Dunklo USB possiamo benissimo parlare di skateshop Quindi un proprietario di uno skateshop autorizzato da Nike Quindi che Nike gli dà ipotizziamo 100 scarpe da venderle nel suo negozio Comunque avevamo già visto tantissime foto e video di reseller che avevano 10, 20, 30 paia di questa scarpa Di conseguenza qualcuno aveva backdorato E tornando a noi Quindi il backdoor è semplicemente quando un proprietario di uno store vende le scarpe sotto banco ai clienti Quindi immaginiamo che il retail sia di 130 euro e la stima del resell sia sui 1000 Magari li fanno 250-300 euro a paio quindi ci guadagnano tutti quanti Il reseller che le vende ancora a prezzo maggiorato quindi al prezzo di mercato E il proprietario dello store che le vende a semplicemente un prezzo maggiorato rispetto al classico retail Spanto viene a mancare e Nike decise di cancellare il lancio Quindi chiese a tutti gli skateshop di rimandargli le scarpe Un po' come è successo per le Yeezy Moltissimi skateshop specialmente in America ormai le paia le avevano già vendute E di conseguenza Nike ad alcuni recesse proprio la licenza di poter vendere questo modello di scarpe Passano i mesi fin quando iniziamo a vedere delle immagini di alcuni spot commerciali Che stavano venendo girati indossando queste scarpe Facendo 2 più 2 possiamo ben intuire che da lì a poco ci sarebbe stato il drop Gli unici che fecero il lancio furono alla fine gli skateshop però europei Perché per quelli in America la data fu cancellata E anche il sito ufficiale di Born & Reyes Nella sera del 28 settembre alle ore 21 in punto Born & Reyes rilasciò le scarpe tramite un metodo FCFS Quindi un lancio in velocità E qui semplicemente in Europa ci furono tantissime raffle Che potete trovare su Discord cliccando il link in descrizione o nella scheda in alto destra Ed entrando nella mia community Se siete stufi di comprare sempre le scarpe resell E quindi volete prenderle al prezzo di retail In questo caso sarebbe stato di 130 euro E quindi noi europei abbiamo avuto questa possibilità Parlando sempre di backdoor in molti si ricorderanno al 100% Il drop delle Jordan 1i in collaborazione con Trophy Room In questo caso siamo nel 2021 quando Marcus Jordan nonché figlio di Michael Jordan Decise di fare una collaborazione con il suo store e quindi il Trophy Room Con la parte Nike Jordan nel modello Jordan 1 Iniziarono a collaborare, uscirono i primi leak, poi le prime immagini ufficiali, poi le prime immagini on foot E l'hype per queste fu letteralmente qualcosa di pazzesco In questo caso non ci furono gli skate shop Ma la release fu esclusiva proprio per il Trophy Room e anche su sneakers Solo US in quel caso Qualche settimana prima del lancio iniziarono anche in questo caso A girare tantissime immagini nel mondo del web Di reseller proprio dal calibro di Benjamin Kicks Mostrare tantissime Jordan 1 in collaborazione appunto con lo store Trophy Room Le paia prodotte furono solamente 12.000 Ma vi posso assicurare che 12.000 non fu minimamente lontano alle paia che venirono rilasciate Tra sneakers US e anche nella raffle di Trophy Room Per capirci le paia su sneakers all'incirca erano sul migliaio E quelle rilasciate da Trophy Room non possiamo saperlo Però vedendo in generale le win delle persone Allora sicuramente c'è qualcosa che non va I motivi che hanno reso il ressell di questa scarpa intorno ai 500€ principalmente sono due Dettagli davvero incredibili partendo semplicemente dai materiali Troviamo questo Nabuc che alterna ovviamente alla classica pelle della Tomaia È stato usato anche un materiale molto molto particolare Che difficilmente vediamo nelle sneakers sia per fare lo swoosh ma anche la parte del back dietro Sembra un materiale olografico Adesso non so come si dica in termine tecnico Però in base all'inclinazione che gli diamo cambia il colore Nel back in base all'inclinazione che gli diamo notiamo il fatto che passa dalla scritta Nike a quella Born Nella parte della suola troviamo la scritta On the Tarf Che possiamo tranquillamente tradurre un po' come per strada o comunque nel pavimento Poi ovviamente dipende Un altro dettaglio molto interessante che a me ha fatto impazzire è questa scritta nella suola traslucida con il Born, lo swoosh e la dicitura SB Nella punta troviamo One Block at a Time e i buchi dei lacci ragazzi sono qualcosa davvero di pazzesco Una piccolezza che rende però questa scarpa molto molto bella e anche troviamo dei buchi simili nel toe Il laccio rosa personalmente è una grandissima hit per poi passare ragazzi alla linguetta che troviamo la scritta Born SB con scritto One Block at a Time Internamente abbiamo la scritta On the Tarf E sotto Don't be a Lame Soletto invece molto molto chill Davvero ho tra le mani una grandissima scarpa Poi ovviamente dipende dalle opinioni C'è chi dice che i 500 euro li vale C'è chi dice di no Signori io vi ringrazio per aver visto questo video fino alla fine Vi ricordo come al solito di lasciarmi un bel like Iscrivervi al canale e soprattutto di attivare la campanellina delle notifiche Vi ricordo che qui trovate la mia visita nel Nike Store più grande d'Europa Invece qui lo scorso episodio di Caffè Hype Uscito esattamente l'altro ieri Buona giornata a tutti